Ciao a tutti, come mancare un uomo? I sei punti fondamentali per sapere tutto. In questo video voglio spiegarti come mancare un uomo, quali sono i sei punti fondamentali che devi sapere, le cose che devi conoscere, per poterli mancare. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra quattro livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazione e seminario dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Inoltre ti ricordo che abbonarti è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e poi seleziona l'abbonamento seminari online. Allora adesso veniamo al tema, sei modi per mancare un uomo, che è veramente fondamentale, è veramente importante, mancare un uomo. Hai appena incontrato un uomo che ti piace davvero, hai appena incontrato un uomo che ti interessa e come fare a mancargli? Quali sono i sei punti fondamentali che devi conoscere? Soprattutto se vuoi farli innamorare, perché ovviamente per portartelo a letto, beh, insomma, basta che ti dimostri un po' disinibita e qualunque uomo, diciamo, in qualche modo accetterà la situazione. Il problema è che questo non lo fai innamorare, tenendo presente anche un altro fatto fondamentale, la sessualità non è quello, non è ciò che fa innamorare un uomo, non è che attraverso la sessualità tu puoi far innamorare un uomo, anzi, assolutamente è il contrario. Cioè, spesso gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore e si disinnamorano facendolo. Quindi le donne che puntano sul sesso, certo, possono avere un successo appunto a breve termine, successo a breve termine, ma poi a lungo termine non lo fanno innamorare. Quindi devi stimolare in lui la mancanza. Ecco, questo è un punto fondamentale. Andando al noccio della questione, ci sono sei regole che devi seguire per imparare, diciamo, a mancare un uomo. Tutto quello che devi sapere. Allora, la prima regola fondamentale è che già dalle prime interazioni devi dimostrarti indipendente e disinteressata a lui. Sembra strano, però dici, ma com'è possibile? Mi dimostro indipendente e disinteressata. Beh, sono due cose fondamentali. Indipendente perché eviti disinnescare meccanismi logico-razionali. Questo è fondamentale perché un uomo teme una donna che vuole a tutti i costi accozzarsi, sposarsi, fidanzarsi, eccetera, come, diciamo, la kriptonite, come Superman teme la kriptonite. Questo devi tenerlo presente. E perché gli uomini, di loro iniziativa, cioè la loro parte logica, cerca di difendersi, no, dalle donne che vogliono avere una relazione, una relazione stabile, le donne che vogliono avere una relazione, diciamo, con un uomo, vogliono a tutti i costi mettere su, tra virgolette, la famiglia del mulino bianco. Questo, certo, poi lo accettano. Ovvio se non ci sarebbero le situazioni, ma deve diventare una loro esigenza. E quindi devi dimostrarti indipendente, perché, ripeto, se tu ti dimostri bisognosa, appiccicosa, dici subito, ah, io cerco una relazione in sera, voglio sposarmi, voglio qua, voglio là, e questo atteggiamento, ripeto, spaventa gli uomini come la kriptonite spaventa Superman. E devi dimostrarti disinteressata a lui, perché se ti dimostri disinteressata vai a migliorare ancora, genera un po' di psicologia inversa, sarà lui a cercarti. Questo è il primo punto fondamentale che deve manifestarsi. Secondo punto, molto importante, devi essere misterioso. Essere misterioso significa che non devi rivelare nulla di te, o poco, e questo scatenerà curiosità, no? E quindi inizierà a cercare, ti penserà, ma che farà questa? Cosa farà? Insomma, essere misterioso, a che relazione avrà? Questo è fondamentale. È molto importante questo. Perché vai subito a cercare di, vai subito a stimolare, insomma, il suo, la sua curiosità e il suo desiderio. Terzo punto, deve percepirti indispensabile, emotivamente. Quindi devi saper erogare emozioni, devi saper capire, anche da subito, un po' quali sono i suoi turbamenti, il più possibile da amplificare. Teme il tradimento? Fatti vedere come colei, a livello logico e razionale, negli secoli fedeli, come l'arma dei carabinieri, ma che potenzialmente invece potrebbe tradirlo. Quindi spegni il telefono, fai delle cose, perché questo gli dà emozioni. Quindi ho fatto tutta una plettora di video sul come capire i turbamenti, vatteli a vedere, perché è fondamentale. Ma questo è un altro punto fondamentale. Quarto punto, utilizza il condizionamento operante di Bandura. Cioè ogni tanto gratifica e ogni tanto penalizza sparendo. Cioè non devi essere sempre disponibile. Ogni tanto magari fai anche quello che lo cerca e poi, paf, sparisci completamente. E soprattutto la prima volta che ci andrà a letto, il giorno dopo devi sparire completamente. Poi lui deve pensare, non gli sarà piaciuto, avevo fatto schifo, sarò... Devi proprio fare questa tecnica, è fondamentale questo. Quinto punto, devi saper, diciamo, gratificare, rendere piacevole il tempo che passi con lui al di fuori del letto. Cioè quindi devi essere di fatto una persona positiva, non lamentosa. Donna lamentosa, donna noiosa. Questo devi tenere presente. Ci sono quelli che si lamentano, iiii, piove, iiii, c'è il sole, iiii, c'è vento, iiii, c'è, che ne so, le nuvole, iiii, c'è questo, iiii, c'è quello. Si lamentano di tutto, iiii, domani lavoro, iiii, domani non lavoro, come faccio? Insomma, tutte queste lamentele, donna lamentosa, donna noiosa. E poi non metterlo sul piedistallo, come punto, come sesto punto, questo è un altro punto fondamentale. Non metterlo sul piedistallo, perché non devi creare una divinità, non devi creare un vitello d'oro, ma devi creare un... Devi... non devi creare un vitello d'oro, devi trattarlo con un'irriverenza e non metterlo sul piedistallo. Ecco, queste sono le sei strategie, le sei tecniche, i cinque punti fondamentali da sapere per mancare a un uomo. Bene, se questo video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari del vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao!